Buon pomeriggio, sono Andrea Recupero e sono responsabile del Solution Center di Milano di Polycom e sono qui oggi per presentare la soluzione Healthcare Practitioner Card. È una soluzione, come tutte le soluzioni Polycom, che si basa su un approccio open standard, vuol dire che può interoperare e può essere messa in connessione con n tipi di device. In questo caso abbiamo la soluzione che comprende il sistema HDX8000 collegato a una batteria che ha un'autonomia di circa 2.5 ore, ha un monitor che può essere customizzato a seconda delle esigenze e ha un sistema wireless con un'antema integrata che consente al dispositivo di poter operare anche in un ambiente con connettività Wi-Fi. L'aspetto interessante, come accennavo, è il discorso open standard. Siamo qui allo stand Microsoft, tale dispositivo come tutte le soluzioni Polycom è integrabile nativamente in ambiente Microsoft Link. Questo è molto importante perché ci consente tramite le nostre soluzioni di poter parlare in modo nativo e di poterci registrare direttamente sul sistema Link. Altro aspetto importante è il discorso della banda. Con questo tipo di dispositivo siamo in grado di offrire una connettività video in alta definizione a partire da 512K e una connettività in full HD, quindi parliamo di 1080p, a partire da 1M. Altro aspetto importante è relativo ai tipi di device che possono essere collegati al practitioner card. Abbiamo diversi tipi di verticali a seconda delle esigenze specifiche. Abbiamo sistemi forniti attraverso i partner di Polycom Global Media AMD che ci consentono di customizzare la soluzione in ambito per esempio dermatologico con delle microcamere ad hoc che servono per rilevare istantaneamente in real time la patologia o comunque per poter consentire allo specialista in remoto di effettuare la diagnosi. Abbiamo dispositivi per il sistema oculistico, abbiamo anche per la condivisione di immagini radiografiche, di immagini di elettrocardiogramma, di ogni tipo di verticale a seconda della necessità della nostra clientela. Caratteristiche importanti per chiudere il discorso è relativo anche all'aspetto di registrazione. Tutto quello che viene presentato attraverso la videocomunicazione tramite Polycom può essere anche registrato ed eventualmente può essere reso disponibile mediante webinar, mediante connessioni in broadcasting, cioè può essere anche visto in un contesto di education in ambito al care. Grazie.